Sono 16 nuovi positivi a Caltanissetta nelle ultime 24 ore per un complessivo di 86 pazienti positivi in tutta la provincia. C'è un lieve aumento a Caltanissetta e a San Cataldo. Infatti sono 162 i pazienti in quarantena domiciliare nel capoluogo, 13 i ricoverati in malattie infettive. Ciò che riguarda San Cataldo invece sono 38 i positivi in quarantena domiciliare e c'è un ricoverato. Le situazioni sempre a sotto controllo sono niscemi 568 positivi, 19 ricoverati in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Anche 2 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva a Gela, 418 i positivi in quarantena domiciliare e 11 invece sono ricoverati in malattie infettive. Quindi restano 4 i ricoverati in terapia intensiva senza nessun cambiamento e 55 i ricoverati in malattie infettive per 1.406 invece positivi in quarantena domiciliare. Per ciò che riguarda l'aumento dei contagi sono 9 a San Cataldo, 4 a Campofranco, 3 a Butera, 22 a Niscemi, 29 a Gela, 1 ad Acquaviva Platani e 2 a Mazzarino.